questo è piccolo blu ecco la casa con mamma blu e papà blu piccolo blu ha molti amici ma il suo migliore amico è piccolo giallo che abita nella casa di fronte io sono davide sono un operatore volontario del servizio civile alla biblioteca di amici di genova questo libro intitolato piccolo e piccolo giallo di leo lionni è un libro inserito in una lista di censure